Musica e solidarietà, il lavoro e la situazione sullo sviluppo economico del territorio. E questo è il filo conduttore del primo maggio insieme organizzato dal comune di Vigarano Mainarda che si terrà presso il municipio lunedì prossimo a partire dalle ore 16. Tanta musica, quindi gruppi locali, siamo riusciti ad organizzare non più con una sola associazione di volontariato ma con una quarantina di volontari spontanei che appunto sia come cantanti o musicisti o in altra forma hanno collaborato per poter realizzare questa importante giornata che durerà dalle 16 alle 23 del primo maggio appunto sulla scalinata del comune in una location importante perché vede proprio la sede istituzionale in primo piano ma soprattutto vede la partecipazione di Alessandro Fortini che come responsabile CNA dello sviluppo economico alle 19 poi darà il giusto valore all'iniziativa diciamo che parlando appunto di quello che accade nel nostro territorio e riflettendo sui temi tipici insomma di questa giornata importante che è il primo maggio. Diverse le novità di questa edizione che viene organizzata a Vigarano dal 2011. Ci sono sicuramente le collaborazioni con le attività produttive locali e il fatto che la maggior parte anzi direi la totalità insomma delle persone coinvolte sono vigaranesi quindi tantissimi bravi e grandi musicisti dalla tenera età dai giovanissimi fino a quelli più esperti tra cui annoveriamo anche l'ex sindaco Daniele Palombo che sempre tanto seguito ha. Questi volontari sono vigaranesi che quotidianamente si spendono per la nostra comunità avremo una quarantina, 35-40 persone che tra componenti di band e la parte logistica ci daranno una mano appunto per l'organizzazione di questo primo maggio insieme. Un evento che metterà in primo piano anche la solidarietà. Questa iniziativa del primo maggio rientra in un calendario di attività che abbiamo messo in campo e metteremo per solidarietà un comune che abbiamo adottato, il comune di Cascia colpito dal sisma del centro Italia del 2016. La giornata è propensa per raccogliere fondi che poi nel mese di giugno porteremo al sindaco consegneremo nelle mani del sindaco l'importo che già da dicembre 2016 abbiamo raccolto con altre iniziative. Quindi l'invito insomma ai vigaranesi, ai ferraresi, a chi vorrà venirci a trovare di mettersi una mano sul cuore e aiutare chi è meno fortunato di noi. Quindi questo è l'invito che faccio a tutti.